Siamo nuovamente per la seconda edizione parte integrante degli sponsor per la festa del pane di Mazzala del Vallo. L'anno scorso è stata la prima adesione da parte di Vital da questa manifestazione e abbiamo avuto un notevole riscontro durante l'anno da parte della comunità. La festa del pane per noi di Vital Dente è l'opportunità, un'opportunità per ricambiare la fiducia che la comunità di Mazzala del Vallo ci ha accordato in questi anni. Anche quest'anno la Vital Dente si farà carico delle cure odontoiatriche di una persona che ci verrà indicata dall'assessorato alla solidarietà sociale del comune di Mazzala del Vallo. Sono il dottor Francesco Scarici, mi sono arrivato presso l'Università di Messina nel 2005. Qui in Vital Dente mi occupo di odontiatria pediatrica, quella branca dell'odontiatria che si occupa della cura e prevenzione dei bambini che vanno dai 0 ai 14 anni. Prevenire è meglio che curare ha un suo significato, principalmente per la prevenzione della carie. Come si può prevenire la carie? Tre semplici regole. Mangiare bene, pulire e andare costantemente dal dentista. Inoltre, tutti quei bambini che seguono un corretto protocollo di prevenzione avranno minore probabilità di incorrere in patologie orali da adulto. Sono il dottor Massimo Pastorino, un odontiatra. Sono laureato dal 1989, lavoro nel circuito Vital Dente dal 2010. Mi occupo prevalentemente di chirurgia implantare, chirurgia avanzata e riabilitazioni complesse di tutta la bocca. Sono il direttore sanitario della struttura di Mazzaro del Vallo e collaboro sia con questa struttura che con altre distribuite su tutto il territorio nazionale e in più faccio parte del comitato di controllo qualità, cioè del quality center che ha sede a Milano. Ci occupiamo quindi in questa veste del controllo di tutta l'attività dei medici del circuito per cercare di sopperire ad eventuali problematiche in modo tale da avere sempre un riscontro positivo da parte del paziente. Il lavoro delle nostre strutture è organizzato in team e ogni gruppo di lavoro ha professionisti che si occupano per competenze di riabilitazioni complesse o di riabilitazioni semplici, di terapie endodontiche, di protesi, di ortodonzia e di tutto quello che riguarda le attività odontoiatriche in genere. Questo fa sì che ci sia un'altissima specializzazione in ogni settore e pertanto il livello qualitativo delle terapie è molto alto. In tutti i centri l'Italent utilizziamo attrazzatore l'avanguardia e materiale di ultima generazione, tutto certificato c'è e anche i nostri laboratori che collaborano con noi sono di alto livello qualitativo. Grazie per la visione!